Ciao ragazzi, bentornati in un nuovo video su YouTube Se vi chiederete Stefano ma come fai ad avere Questa bellissima schede speciale Ma Stefano ma come fai ad avere lo Stamble Pass completo Ma Stefano ma come fai ad avere così tanti gittoni Stamble Ragazzi andatevi a vedere Ultimo e scorso video Che l'avevo pubblicato qualche scorso video Quindi ragazzi se volete avere la mia amicizia Mi chiamo S$ di linea verticale uguale percentuale Ora ragazzi nell'ultimo video Il secondo video con più visualizzazioni del mio canale Mi avevo detto la stessa cosa Però io ragazzi purtroppo non avevo spazio per gli amici Ora ragazzi ne avevo una roba come i 200 amici Li ho cancellati tutti Ora ne ho 18 Quindi ragazzi ora potete mandare tutti l'amicizia Intanto ragazzi mi cancellerò anche quanto bene in più Quanto fa niente Quindi ragazzi come vedrete qua Troppo Andiamo bene Se volete Cioè sono proprio tutto libero Intanto ragazzi Intanto ragazzi E poi se vi chiederete Se noi dovremmo arrivare per caso ai 200 iscritti Al più presto possibile Al più presto possibile Intanto ragazzi Dovete iscrivervi o con un account in più O chiedere al nostro genitore o parente di iscriversi al mio canale E attivare la campanellina Per essere sintonizzato ai miei video Che pubblicherò in seguito Quindi ragazzi Intanto ragazzi abbiamo tirato un calcio Abbiamo tesato giù due persone Con i nostri bellissimi passi Abbiamo tirato un calcio Abbiamo tesato giù due persone Con il traghetto Ora ragazzi Non è ausso Mi fa saltare Uno Due Qui E' su qualificato ragazzi Quindi ragazzi Noi ci vediamo alla prossima partita E' usciuta over e under non Ora guardiamo il suo nome, perché non è la mia moglie. Ma ciò che poi c'è chiama di stricco, ma non è la mia moglie che le riempie. E' una cosa che mi piace è meglio. Non è che non è la mia moglie. 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 0 0 7 cosa stiamo qui? ci siamo qualificati noi ci vediamo alla finale ragazzi ok ragazzi con la finale è uscita water e hunter quindi ragazzi via no vabbè siamo giovanissimi no non no ora facciamo tutti i 3 con le reanno bene due volte di schieno è va bene coper e ho perso volevo tirare un calcio ma non ci sono riuscito chiudiamo la pubblicità quindi ragazzi ora ragazzi facciamo una partita e poi ragazzi ragazzi se non l'avete ancora fatto lasciate un bel like iscrivetevi al canale lasciate attivate la campanellina per non perdervi neanche un prossimo mio video così sarete sempre sintonizzati ai prossimi video che usciranno intanto ragazzi è uscito i votpash dove c'è qui è la mappa perfetta per tirare i calci banali ok ragazzi non sono riuscito a startare la registrazione in tempo oh oh non sono riuscito a fare il trick siamo fatti qua oh non mi esce quasi mai overhander queste mappe così finalmente è uscita secondo me è una mappa che non mi esce da tantissimo tempo con la pubblicità che bisogna tirarle per appoggiare le bandierine la trovo da tantissimo tempo ora se la trovo c'è inizio a piangere ora abbiamo uscita allo stampo come finale ragazzi vediamo che siamo fatti il time possiamo andare qua la dolce mettiamo il palazzo siamo fatti siamo fatti siamo fatti no no vabbè ssss quando salire eh sì vabbè adesso si si abbiamo vinto ragazzi abbiamo fatto una win abbiamo fatto una win uuuuuh abbiamo vinto siamo imbattibili siamo imbattibili noi ragazzi ci vediamo al prossimo video come sempre iscrivetevi al canale e lasciate un bel like iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi nessun video e se arriviamo ai 100 iscritti faremo 20 spin ciao